Si chiama Jeanne Semos, è una giovane ragazza straniera, ovviamente non è italiana, e pensate che si è ritrovata a suo malgrado dentro ad un matrimonio che, come lei stessa ha ammesso, è stato voluto in maniera eccessivamente rapida, troppo in fretta, e ha pagato il relativo scotto. Infatti lei e il compagno sono diventati d'accordo, sono entrati in accordo, che non c'è bisogno di tendere a coinvolgere un contratto legale nella relazione che hanno. La donna infatti si è sposata con un uomo prima dei 40 anni, ma a suo dire è stato un grandissimo errore. Perché? Perché il divorzio divorziare costa un sacco di soldi. E lei stessa ammette candidamente parlando che il matrimonio è un accordo legale. E' da anni che mi batto io stesso nell'altro canale che è il conoscitore, però che vi invito a vedere, e capire per rendervi conto che effettivamente parlando è come dice questa donna, è come Dio stengo i danni, e cioè che il matrimonio è un incolo legale, annullabile solo grazie ad una separazione e un divorzio. E quindi bisogna mettere mano al portafogli. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi. Udenti di Youtube, bisogna capire da subito qual è la cosa più giusta da fare, secondo me, non sposarsi, non fare figli, mia opinione. Comunque, il mio complimento per la donna in questione, che è creduto secondo me, sia un Jain, esimos, iscrivetevi, commentatevi, una buona sera da qui.